Mi trovo a Moio della Civitella in occasione di un corso BLSD organizzato dal sindacato SNALVS CONFSAL in collaborazione con l'organizzazione di volontariato Carmine Speranza e il patrocinio del comune di Moio della Civitella. Comagna di Adriano Urli, direttore dell'organizzazione di volontariato Carmine Speranza. Il corso di questa giornata è rivolto un po' a tutti quanti perché dalla presentazione ho notato che ci stavano sia infermieri, OSS ma anche persone laiche normali. Quindi è giusto che tutti quanti siano informati a queste manovre di primo soccorso. Io sono Dora Caputo, sono qui e sono felice di essere qui a Moio della Civitella. Ringrazio Gennaro Vasile che ci ha portato qui. Ringrazio il sindacato SNALVS per questa opportunità e volevo dire che questo sindacato comunque è sempre presente per i lavoratori e cerca sempre di favorire i suoi iscritti per tutti i corsi e per stare vicini. Innanzitutto grazie all'amico collega Daniele, sempre presente ai nostri eventi con Gilento Channel, dandoci l'opportunità di pubblicizzare le nostre iniziative. In realtà abbiamo oggi organizzato un corso BLSD grazie all'associazione Carmine Speranza, associazione Ollus di Torrossaia. Corso che la fa da padrone la parte pratica in quanto vengono illustrate delle metodiche e delle manovre importantissime in caso di rianemazione cardiopolmonare. Questo è un tipo di formazione specifica molto importante non solo per noi operatori sanitari ma anche nella vita quotidiana. È di quest'anno un decreto legge specifico, il 1441, che ha obbligato l'uso in caso di necessità del defibrillatore presso tutti gli uffici pubblici, istituti scolastici e aziende in genere. Per questo motivo abbiamo ritenuto di dover realizzare questo corso di formazione per i nostri iscritti in qualità di SNALV Conf Sanità Salerno. Io sono il segretario provinciale, però devo dare atto che lo SNALV nazionale nella persona dell'Avvocato Mamone ci dà un supporto continuo a questo tipo di iniziative. Noi già da anni siamo con la formazione, abbiamo già realizzato una serie di eventi anno per anno anche per fare in modo di poter conseguire i crediti ECM che è obbligatorio per ogni operatore ogni anno conseguire almeno 50 crediti all'anno.